C'è qualcuno nel mondo che adesso vede attraverso le corne di Joe. Che bella cosa, qualcosa di vivo è di lui, è ancora qui. Queste le commosse parole di Elena Pasco, la madre di Giordano, Sanginiti, il 21enne, morto in un incidente stradale lungo la regionale 308 del Santo lo scorso 4 febbraio, apprendendo che la donazione delle corne del figlio è andata a buon fine. Nei giorni scorsi la comunicazione e i ringraziamenti della Banca degli Occhi e della Regione Veneto ai familiari del 21enne. Dopo l'incidente, infatti, i genitori avevano scelto di donare gli organi del figlio. Sono arrivati anche i ringraziamenti del coordinatore regionale per i trapianti della Regione Veneto, il dottor Giuseppe Feltrin, che a nome di tutto il personale del coordinamento trapianti dell'azienda ospedaliera di Padova e del sistema regionale trapianti, ha tenuto a esprimere alla famiglia gratitudine e rispetto per la generosità e la solidarietà dimostrate con l'atto della donazione dei tessuti di Giordano. Le indagini sulla morte del giovane sono ancora in corso e la procura padovana ha aperto un fascicolo per omicidio stradale indagando due funzionari di Veneto Strade, l'ente gestore della strada. Si è inoltre in attesa del risultato dell'incidente probatorio per stabilire dinamica e cause dell'incidente.